Situazione ancora tutta da decifrare per la crisi che di fatto si è creata, non la prima, per la maggioranza guidata dal sindaco Giovanni Arena. All'interno della maggioranza ci sono stati dei grossi problemi, principalmente per Fratelli d'Italia, che nelle scorse settimane è uscita dal Consiglio Comunale per protesta, di fatto per la richiesta di maggiore spazio all'interno degli organi di governo di Palazzo Di Priori, e nei giorni scorsi il caso è entrato dentro Forza Italia. Gli azzurri hanno visto prima l'autodimissionamento da parte dell'ex sindaco capogruppo di Forza Italia al Comune di Viterbo Giulio Marini, che ha difeso il sindaco però nell'impossibilità di lavorare per i dissiti all'interno della maggioranza, ha in parte gettato la spugna. Lo hanno seguito nelle scorse ore anche il suo fedelissimo Paolo Muroni, ex assessore comunale, e il neoconsigliere comunale di Forza Italia Matteo Achilli. La Lega dal canto suo ha votato il documento contabile chiedendo però una immediata verifica di maggioranza, che ci dovrà essere sicuramente nei prossimi giorni, che molto probabilmente, altrimenti il rischio è la caduta di questa maggioranza, porterà a un rimpasto di giunta per riequilibrare le richieste di Fratelli d'Italia, che di fatto hanno bloccato la macchina amministrativa e le esigenze della Lega. Forza Italia, che lo ricordiamo non è più il partito del 30% di anni e anni fa, è un po' al passo, guarda l'evolversi della situazione, senza dimenticare la quarta forza della maggioranza di Gian Maria Santucci, fondazione, che era stato il primo di fatto ad avere dei problemi di dialogo con questa maggioranza. Quello che è difficile prevedere è se in un momento di vacanze, lo possiamo dire, prossimo al ferragosto ci sarà una maggioranza balneare per alcune votazioni, come già c'è stato nell'ultimo caso, oppure il centrodestra, che lo ricordiamo ha vinto per 500 voti la sua sfida su Chiara Frontini due anni fa alle ultime elezioni, riuscirà a ritrovare quella compattezza che allo stato attuale sembra veramente difficile da avere. Vedremo nei prossimi giorni quello che sarà all'interno di questa difficile maggioranza. Ricordiamo che sono al palo ancora tanti lavori pubblici annunciati, come l'asfaltatura delle strade di Viterbo, una situazione dell'appalto ponte che dovrà riportare il servizio dei rifiuti solidi urbani ad una normalità che di fatto attualmente non c'è, e soprattutto una politica per il centro storico che difficilmente, pur con tutte le volontà che ci sono state espresse, non è ancora stata attuata.